Ci siamo sposati più o meno sui 30 anni e inizialmente pensavamo di avere figli nostri però c'era anche l'idea di adottare eventualmente altri bambini. Forse perché avere un pezzettino di mondo a casa nostra ci piaceva insomma allargare un po' anche l'esperienza della maternità della paternità. Dopo un po' di anni non sono arrivati comunque i figli però l'idea dell'adozione c'era già quindi abbiamo continuato comunque con questo abbiamo fatto la domanda per l'adozione e poi abbiamo seguito le pratiche. L'attesa è stata un momento un po' diciamo di desiderio se possiamo dire questo di sofferenza perché ci hanno promesso una data per andare appunto in India a prendere queste bambine poi ce l'hanno spostata eccetera. Forse in quel momento lì ho sentito più forte il desiderio di vedere, abbracciare insomma avere queste bambine. Il primo giorno che ce le hanno portate sono arrivata questa, sono arrivate due ragazze che insomma sono quelli che seguono i bambini e sono arrivati queste due robini perché erano più piccole, erano sottopeso, proprio piccoline, vestite tutte di rosso. Sembravano due, non so, molto simpatico, insomma era bella questa cosa tutta rossa, un po' natalizia quasi, e visto che erano due ne hanno dato una a me e una a degno. Chiaramente vederle così, abbracciarle è stata un'emozione fortissima, poi ci hanno fatto rimanere lì un'ora, un'ora e mezza più o meno e durante questo periodo abbiamo giocato con loro, parlato anche se chiaramente non capivano perché pur avendo dieci mesi poi l'italiano non avevano mai sentito, quindi sicuramente sentivano suoni, così insomma abbiamo cominciato a rapportarci insomma con loro e a farlo naturalmente, non è stata una cosa difficile da fare. Io ero un po' preoccupata, nel senso che non avendo mai avuto figli, subito due gemelle, ero un po' più preoccupata anche dal fatto di come gestire la cosa, come tenerle, cioè quelle cose che dovute alla poca esperienza di mamma. Quando le abbiamo viste però ce le hanno date in braccio, insomma si è un po' sciolto anche ogni paura, problema, timore eccetera e una cosa c'è da dire è che non ho mai pensato al fatto che non fossero mie e quindi non le avessi fatte nascere io. Grazie. Grazie.